Il nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia catelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione di struttura antimafia nei confronti di sei indagati di cui tre già detenuti, i detenuti che veramente iniziati a vario titolo di detenzione illegale di armi ed esplosivi, detenzioni di stupefacenti e ricettazione, fatti tutti aggravati dalla finalità di agevolare l'attività del clan De Luca Bossa, operante nel quartiere Ponticelli e rientrante nella sfera di influenza del cartello criminale denominato Alleanza di Secondigliano. L'indagine condotta dal citato nucleo sull'operatività del clan De Luca Bossa e sulla perdurante contrapposizione armata tra quest'ultimo e quello denominato De Micco De Martino ha consentito di identificare mandante ed esecutori materiali dell'attentato di Namitardo perpetrato il 23-7-2022 in Ponticelli in pregiudizio del clan De Micco De Martino, nel quale, a seguito di un'esplosione causata da un ordigno posto all'interno di un veicolo, si verificava il danneggiamento delle vetrate di diverse abitazioni e il danneggiamento di tre autovetture e ivi parcheggiate, ricondurre al citato sudalizzo la disponibilità di armi e dello stupefacente, oggetto di sequestro il 9 agosto 2022 in Ponticelli. Il provvedimento è eseguito da una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stesa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Grazie a tutti!